Però prima ti leggo quello che è venuto fuori oggi su Gazzettino e vorrei anche una tua opinione. Dice questo, l'istituzione di PCM durante la pandemia del Covid-19 è da ritenersi illegittima. La sentenza 842 del 2022 rischia di entrare nella storia della giurisdizione italiana, a sentenziarla è il Tribunale di Frosinone, a firma del giudice Luigi Petraccone. Questa decisione rischia di aprire ad una incredibile revisione di molti provvedimenti assunti dal Governo nazionale per rifronteggiare l'emergenza Covid. In pratica tutti i vari decreti ministeriali che limitavano la libertà personale, ad esempio dall'obbligo vaccinale al Green Pass, rischiano di essere impugnati. Facciamolo dire dall'avvocato. Non è la prima tra l'altro, c'è tutta una serie di sentenze a partire anche dal Tribunale di Pisa con Lina Manuali che era stata una delle prime. Cosa potrebbe accadere allora? Ma anche a Chiavari stiamo vincendo giudici di pace sui DPCM, cioè vengono considerati illegittimi ad esempio perché senza motivazioni. Sì, ma vuole capire dopo cosa potrebbe accadere? Beh, ora accadere ovviamente la parola fine su questa storia la metterà la Corte di Cassazione perché è ovvio che si andrà avanti, dopo il Tribunale ci sarà un utile regrado. E vedremo cosa dirà la Cassazione dal punto di vista del diritto. E se dovessimo vincere? Se dovessimo vincere si apre la porta anche ai risarcimento per tutte le attività che hanno subito danni da questi provvedimenti, cosa che dovrebbe essere perché in diritto che atti amministrativi non potessero comprimere le libertà personali, che non potesse il governo autodotarsi di poteri speciali in materia di compressione di diritti costituzionali era scontato. E in più poi se sono atti amministrativi dovrebbero essere motivati congruamente, non chiudo perché te lo dico io, no, dovevano chiudere eventualmente perché c'erano degli elementi scientifici alla base. A Chiavari stanno perdendo, abbiamo vinto dei ricorsi su questo proprio perché questi DPCM non fanno riferimento a nulla di scientifico che ne dicano. E in giudizio perdono perché non riescono a portare niente. Le prefetture, quindi le tue controparti. La dichiarazione dei Pfizer, della rappresentante dei Pfizer, che anche quella, voglio dire, cade completamente il principio dell'obbligo perché l'obbligo potrebbe essere imposto soltanto se il trattamento serve per proteggere gli altri. Su di me decido io in qualsiasi caso. E questo è un trattamento che insomma non ha mai impedito i contagi. Tra l'altro non è che sia una novità. Ora è stato detto in modo un pochino più clamoroso ma era anche sui bugiardini. Pfizer ha sempre scritto che non c'erano certezze su quanto riguarda l'impossibilità di contagiare altri rispetto ai vaccinali. Si è mal addetto dopo due anni però. Ma sapete che poi qual è il problema? È sempre il discorso che abbiamo fatto tutta la sera. Il problema è la scienza di chi? Se è la scienza delle multinazionali che ha come unico fine quello del profitto e fidarsi è quasi sempre sbagliato.